Ben trovati da TG della mobilità, novità estiva sulla rete del trasporto pubblico. Dall'unidì scorso è in servizio la linea circolare 713 tra la Portuense via del Trullo e via della Magliana, capolinea in via del Bosco degli Arvali. La linea 713 raggiunge l'ospedale israelitico e la stazione Magliana della ferrovia FL1. La linea è attiva nei giorni feriali, dall'unidì al venerdì dalle 6.45 alle 21.05, il sabato dalle 9 alle 19.20. Proroga del cantiere che è in via Andersen, sta lavorando alla manutenzione della strada tra via Flaubert e via del Podere Trieste, sullo stesso tratto vige il divieto di transito in direzione di via Valle dei Fontanili. La linea 908 è deviata in direzione di Piazza Gasparri e transita per via del Potere Fiume, disattivate quattro fermate della linea in via Andersen. È tutto per questa edizione del Tg della Mobilità.